dai vado a non lo vede il suo evento si ma ma che sta a far vedere non inizia massa per iniziare è il mio primo 30 mamma mi metto questo è un po' parlare no ma ma mamma 3 2 1 Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio Oh mio Dio